Ciao, ieri mi ha chiamato il team di Perthway per mandare sostanzialmente un piccolo video e spiegare la motivazione della scelta del corso Master. Sono Alberto, sono un Area Manager per una società dell'Ord Italia. Il corso principale è fatto lo scorso settembre-novembre 2020, non mi ha fatto diventare, diciamo, il 3D Sistemateco più bravo in Italia, però mi ha aperto un attimino gli occhi di cosa sono queste cose e come funzionano. Non sono proprio di primo pelo, per cui ho guardato un attimino con attenzione. Però devo dire che Francesco con la sua esposizione è semplice e con la possibilità tra l'altro di testare tutte le varie idee in piattaforma e la possibilità anche di avere un gruppo ti dà una grossa mano. Quindi, siccome ho intenzione di passare in reale nel giro di due o tre mesi massimo, ho ritenuto importante proseguire con la formazione e quindi procedere con l'acquisto del nuovo corso, che spero sia altrettanto valido. Ciao!